Può dire in un tempo fuori dalle abitudini italiane, cioè in due anni, sono dei luoghi che sono in restauro da 45 e non si riesce a finirli, qui in due anni si è dimostrato che il dialogo fortunato e concreto fra ente pubblico e mondo privato può portare dei risultati. Adesso da qui inizia una nuova avventura che è quella di dare un destino alla villa, dal quale si vedrà adesso cosa succederà. Io penso che sulla linea del passato il futuro funzioni benissimo, bisogna vedere cosa sarà il rapporto fantastico con il parco di Monza che è una realtà importantissima per la Lombardia e come si dice in questi casi tanti auguri.